benvenuti anche questa sera questa diretta questa è quella ufficiale che facciamo tutti lunedì tutto l'anno quindi lunedì alle 10 ci vediamo dopo aver fatto questa maratona di sette serate se ci sei stato ti sono grato questa sera abbiamo un ospite d'eccezione ma prima di iniziare a parlare del tema della serata ti faccio come sempre un piccolo rapportino che è poi quello che ci racconta un po il bollettino della protezione civile riguardo ciò che sta accadendo in italia un bollettino di guerra perché sono 23.073 casi positivi 27.980 i casi totali 2.749 i guariti 2.158 morti ascolta bene ma questo numero potrà essere confermato solo dopo che l'istituto superiore di sanità avrà stabilito la causa effettiva del decesso questo lo riporta la protezione civile poi tu vai sul sul sito dell'istituto superiore della sanità ci puoi andare anche tu dopo e vai a vedere che al di là delle medie che sono altissime di età di morte quindi parliamo di 81 anni ma al di là di questo tu leggerai che a oggi non ci sono ancora dei morti riscontrati al 100 per cento di coronavirus cioè persone sane che hanno avuto come causa come decesso il coronavirus ma trovi tanti morti con altre patologie pregresse e oggi ci sono due casi che sono forse forse riconducibili al coronavirus ma non sono certi se all'interno se in maniera magari non emersa c'erano già delle patologie pregresse comunque siamo qui siamo qui per creare quell'altra angolo quell'altro angolo di informazione ti chiedo per questo di condividere questa diretta condividila perché voglio mandarla in ogni angolo del paese visto che non ci sono alternative qui sembra di stare in un regime con una televisione di regime dove tutti quanti danno la stessa informazione che è distante da quello che comunica per esempio l'istituto superiore sanità accendi la d'urso e ti spara morti a destra e sinistra e terapia intensive in difficoltà cosa vera perché comunque le terapie intensive visto che questa questo virus è molto virale ed è violento per chi ha delle patologie e ha già e già sta male quindi comunque fa in modo che le persone debbano essere intubate e visto che il sistema sanitario italiano fino ad oggi è stato maltrattato sono dieci anni che facciamo tagli su tagli su tagli è ovvio che oggi è al collasso e chi sta pagando le conseguenze oltre le vittime o quelli che sono ammalati anche gli angeli che li proteggono o che comunque fanno del tutto per salvarli quindi gli infermieri e tutti i medici in prima linea che io tra l'altro ringrazio come sempre perché veramente sono degli angeli grazie 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 quindi questa sera non parleremo solo di questo questo te l'ho voluto dire per ricordartelo perché durante il giorno poi stando a casa ti programmano ti programmano ti programmano adesso mandano in giro quello che si è intubato a 30 anni quello a 20 anni guarda tutto lo studio tutti i numeri delle statistiche dell'istituto superiore di sanità perché lì trovi non ti dico la verità ma almeno sono più onesti di tanti altri giornali o telegiornali che per far notizia fanno a gara chi la spara più grossa quindi in collegamento abbiamo un grosso personaggio perché stiamo parlando di nino galloni chi è nino galloni nino galloni faccio un piccolo cappello introduttivo magari tu sei giovane e non lo conosci ma è una persona che da molto nell'economia perché è un economista collaborato col professor federico caffè ed è stato direttore generale al ministero del bilancio quindi ministero dell'economia poi a quello del lavoro è autore di numerosissimi saggi e studi di economia fra cui è un docente universitario presso i più importanti atenei italiani è presidente poi è molto importante questo perché ci servirà per il discorso di questa sera è presidente del centro studi monetari un'associazione per lo studio dei mercati finanziari e delle forme di moneta emittibili senza creare debito pubblico perché di questo stasera parliamo faremo la fine della grecia ciao nino ben arrivato faremo la fine della grecia buonasera a tutti ciao faremo la fine della grecia ma dunque io su questa storia della grecia o del paragone con l'argentina ho sempre avuto i miei dubbi perché differenzio fondamentalmente i paesi in base a diverse caratteristiche la più importante è se un paese ha capacità di trasformazione quindi di valore aggiunto importanti o meno l'argentina era un grande esportatore di grano e di carne quando per qualche motivo legate al mercato internazionale l'evoluzione dell'economia eccetera non è stato più possibile assorbire la sua carne e il suo grano è andata in crisi la grecia esportava yogurt e olive ottimi entrambi ne sono anch'io un canito consumatore però poi volerli scambiare come hanno pretesto i francesi e tedeschi con sommergibili e carri armati chiaramente ha creato un disastro dal punto di vista della bilancia commerciale l'italia è il terzo paese è la terza potenza mondiale quanto a diversificazione merceologica all'export dopo la cina e la germania quindi la parola chiave è diversificazione merceologica all'export cioè capacità di trasformare di vendere di fare cose diverse quindi l'italia comunque non finirà come la grecia potrebbe finire anche peggio potrebbe finire come il congo con una guerra civile con quello che si vuole però come la grecia mi sembra una cosa già improntata una certa ideologia anti latina anti italiana che non è un buon approccio mi verrebbe da chiederti visto la mossa della merkel o comunque proprio della germania che ci fanno digerire per anni questa bce questa europa questo euro e poi si stampano 550 miliardi e a noi magari ce ne concedono 25 a debito secondo te l'euro è morto o l'euro sta morendo comunque come eurozona beh sicuramente non sta non sta molto bene allora vorrei dire due parole due cose su questa questione della merkel all'inizio della settimana scorsa Angela merkel disse si contageranno si contageranno in germania circa 70 milioni di persone però non non chiuderemo le scuole non fermeremo lo sport non metteremo in crisi le aziende industriali perciò io pensai che che la germania aveva come dire coscienza perlomeno la merkel del fatto che questa malattia contagia appunto decine di milioni di persone però se avevano ovviamente attrezzature sufficienti per quella infinitesima percentuale di cittadini che hanno bisogno di cure e di cure urgenti intensive e quindi abbiamo apro la parentesi nella parentesi cioè in pratica noi abbiamo su decine di milioni di contagiati e probabilmente anche in italia siamo molto di più delle delle statistiche una percentuale che ha sintomi di una certa rilevanza modesta e una percentuale ancora più modesta di persone che non ce la fanno però parliamo ovviamente di migliaia di persone che sono comunque di meno di quelle che muoiono in occasione di normali fra virgolette influenze il coronavirus non è un'influenza il coronavirus è un raffreddore che però mutando è diventato qualcosa di preoccupante e anche di letale per persone che per qualche motivo non solo l'età non solo la debilità ma anche altri fattori che non conosciamo poi hanno un esito letale ma si tratta di una percentuale molto bassa giusto per apro una terza parentesi quando io viaggiavo molto assiduamente fra l'italia e gli stati uniti notavo che come studente come giocatore di calcio e quant'altro per me il raffreddore è una cosa normale andavo a lavorare andavo allenarmi facevo le mie partite andavo all'università eccetera mentre quando c'era il raffreddore per un americano era una cosa molto più impegnativa per loro non era una malattia si mettevano a letto con la febbre con mal di testa eccetera eccetera per cui mediamente in Italia il raffreddore ed è il coronavirus un altro tipo di coronavirus evidentemente meno preoccupante a cui noi eravamo abituati mentre per loro evidentemente era qualcosa di più grave poi ha mutato eccetera eccetera chiudo la terza parentesi torno alla mercat passano pochi giorni e invece allarme anche in Germania quindi chiuse le scuole fermi i campionati di calcio e gli altri sport e problemi con le industrie è lì che sfodera questi 350 miliardi cosa che lì per lì sicuramente a me ha sorpreso la fine dell'euro potrebbe essere che ovviamente si creino in modo troppo smaccato due pesi e due misure come è sempre stato nel caso dell'euro oppure che a un certo punto non si capisca come vengono finanziati questi 350 milioni di euro escludo il primo caso che sarebbe la prima ipotesi che sarebbe ovviamente la più la più grave dal punto di vista delle stesse teorie di coloro che poi ci hanno condannato a una certa situazione che non corrisponde alle nostre potenzialità perché chiaramente a un'economia quando l'unica moneta possibile è a debito chiaramente lo stato viene bloccato ed è uno dei motori dell'economia stessa e infatti tu ricordavi il problema che l'emergenza non è per il coronavirus l'emergenza in Italia come in Germania è perché non ci sono abbastanza posti nelle rianimazioni eccetera e quindi è chiaro che bisogna rallentare la diffusione dell'epidemia stessa che se fosse più veloce creerebbe seppure quella piccola percentuale però di persone che hanno bisogno di cure intensive e immediate appena la morte quindi chiaramente per rallentare questa diffusione e quindi fare in modo che tra quelli che guariscono quelli che vanno via degli ospedali quelli che non hanno bisogno di cure e quelli che invece hanno bisogno di cure ci sia un rapporto sostenibile dal punto di vista numerico questa è l'emergenza non è il coronavirus ripeto che pure è una malattia seria perché quando riesce questo virus a scendere sotto le barriere protettive gli anticorpi eccetera della gola diventa un problema ben più serio ovviamente di una normale influenza di un raffreddore quindi praticamente la prima possibilità dicevo è che vengano creati da nulla questi 350 miliardi di euro se non erro scusami sti 550 miliardi si li tira fuori proprio la banca statale tedesca è quello che a me mi ha suonato strano cioè noi non abbiamo più una banca d'italia perché la nostra banca d'italia è posseduta per il 94% da altre banche e tra cui quelle estere la bce sappiamo tutti che ci dà i soldi a debito come gli strossini loro invece di prendere i soldi di là se li fanno cioè se li fanno emettere da una banca statale interna è questo che non mi torna no no ascoltami allora calma la 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 banca centrale è una cosa noi avevamo la banca d'italia che poi è stata privatizzata nella misura in cui essendo una partecipata delle banche che dovrebbe controllare e queste banche essendo state privatizzate negli anni 90 è diventata privata ok ma il punto non è questo perché anche la bce in fondo non è una banca pubblica il punto non è la banca centrale il punto è una banca pubblica allora la kfm fw lì della 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 germania non è che semplicisticamente crea la moneta si la può creare come qualunque altra banca ordinaria perché come dire assicura un credito e non di non ci dimentichiamo che la germania a differenza dell'italia ha una contabilità diversa cioè la germania contabilizza il debito pubblico o meglio il debito dello stato ma lo tiene distinto da due cose che noi invece aggreghiamo tutte insieme cioè il debito dei lander delle regioni e quello della previdenza cioè se noi scorporassimo dal nostro debito pubblico la parte di pertinenza delle regioni e quella di pertinenza dell'inps chiaramente avremo una situazione completamente diversa rispetto ai due milioni e circa 400 mila miliardi che che abbiamo ai 2 mila e 400 miliardi che abbiamo scusate e quindi la la banca pubblica può attivare una linea di credito nei confronti dello stato in questo caso lo stato si indebita però bisogna vedere come viene contabilizzato se nel debito pubblico nel caso tedesco sicuramente no nel caso nostro sì perché chiaramente se noi avessimo una banca pubblica e poi dopo dirò che ce l'abbiamo anzi ce ne abbiamo tre ma il problema non è che noi non abbiamo la banca pubblica non possiamo fare le operazioni che fanno la germania o la francia questa è un'impostazione caro leo sbagliata in realtà il problema è l'opposto siccome noi inteso come classe dirigente non vogliamo fare le cose della francia e della germania cioè non vogliamo aiutare né il nostro paese nello stato allora ci guardiamo bene dall'attivare la banca pubblica in realtà la cassa depositi e prestiti la mps che ha il 67 per cento è controllato dallo dallo stato e il medio credito centrale sono banche che possono fare quello che vogliono ci sono per esempio nel caso della cassa depositi e prestiti delle piccole discrepanze statutarie ma basta riunire un attimo in emergenza un consiglio di amministrazione straordinario straordinario e correggerle cioè non è che c'è nessun problema il problema è la volontà ma stamattina conte nel primo pomeriggio ha fatto una conferenza stampa in cui ha parlato di 350 miliardi perciò prima mi confettevo con il numero con la merkel questa è la prima possibilità per la merkel poi la merkel può dire bene noi siccome abbiamo un debito pubblico molto più basso di quello per esempio dell'italia possiamo arrivare al 130 per cento quello che sia del rapporto fra il nostro debito e il pil e quindi emettere titoli di stato vorrà dire che invece di emetterli a un tasso lievemente negativo li metteremo un tasso lievemente positivo non cambia niente ecco qui entrano in campo le banche pubbliche perché non si fa in italia la banca pubblica perché la banca pubblica comprerebbe i titoli di stato a un bassissimo tasso di interesse così distruggendo i profitti delle banche private le banche private hanno tutto da guadagnare a comprare i titoli dello stato italiano a un rendimento che è il secondo in europa ed è molto elevato se ci fosse la banca pubblica lo stato potrebbe emetterli a un tasso molto più basso e quindi le banche italiane non avrebbero non avrebbero quel guadagno che invece hanno comprando i nostri titoli ecco queste queste cose parlando di banca pubblica in italia debbono essere chiarite perché spesso spesso non lo sono poi ci sono altri criteri sistemi con i quali la merkel può ottenere questi 550 miliardi ma il punto non è quello il punto è cosa ci si fa con tutti questi soldi perché per esempio il buon nostro presidente del consiglio stamattina oggi pomeriggio ha parlato di questi 350 miliardi ha detto che era una linea di credito ha detto che era liquidità ma non ci ha spiegato per fare cosa allora io se devo fare un investimento prima devo dire mi serve questo questo e questo come si fa con una banca no cioè se io vado in banca a prendere i miei soldi devo portare un conto economico provisionale un business plan per capire come lo spendo sto denaro se tu vuoi fare una cosa devi dire voglio fare questo dopodiché ti poni il problema di come mi procaccio i mezzi per realizzarlo ma non è che dici oh 350 miliardi adesso non ci sono problemi a meno che lui dicesse va bene 300 miliardi li destiniamo a dare 5000 euro a tutti gli italiani indistintamente e così poi si arrangino per dire era una strada magari noi non saremmo stati d'accordo però era una proposta concreta diceva daremo 5000 euro una tantum a tutti gli italiani questi sono 300 miliardi e quindi arrangiatevi chi perde il lavoro chi qua chi là chi su chi giù non è che io sarei stato d'accordo però sarebbe stato un messaggio chiaro invece dire abbiamo 350 miliardi iniettiamo liquidità eccetera non è un discorso chiaro mi hai aperto una parentesi quindi una porta vuota con il pallone sul dischetto oggi esce fuori l'aiuto che comunque il governo vuole dare alle partite IVA 500 euro una tantum cioè meno del reddito di cittadinanza e io dico dato che sono un imprenditore oggi sono 3-4 settimane che siamo in balia degli eventi qua in Italia dove vediamo solo restrizioni e blocchi per carità per la salute però poi la spesa a casa non la porta nessuno le spese vanno avanti io ovviamente faccio i conti con tutte le aziende che ho ma mi medesimo anche in una partita IVA che oggi deve pagare l'affitto deve mangiare deve andare avanti e gli arriva un comunicato dove stai tranquillo ti aiuto io ti do 500 euro io non lo so tu cosa ne pensi su una roba del genere mi andrà ridere a me certo 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 però che allo stesso tempo si sta parlando di come dire intervenire sui mutui sui debiti sulle obbligazioni delle famiglie e delle imprese allora il punto è un altro ed è per le banche questo significherebbe un mancato introito no perché se per x mesi non ricevono le rate dei mutui dei prestiti eccetera eccetera le banche mugugnano e comandano le banche in Italia non è come in Germania che comandano le industrie sulle banche ma comandano le banche allora ecco che questa immissione di liquidità serve per dare alle banche il dovuto tra virgolette ristoro del fatto che la gente almeno determinate categorie di persone di imprese non pagheranno più mutui prestiti debiti eccetera per un certo periodo quindi per quel certo periodo questi 350 miliardi sono più che sufficienti quindi in realtà secondo me Conte parlava alle banche diceva non vi preoccupate se noi decreteremo che la gente che ha difficoltà lavorative reddituali di affari eccetera non avrà i soldi per pagare il mutuo perché loro non pagheranno il mutuo ma noi ve lo paghiamo a voi quindi il governo pagherà alle banche il mutuo ma a me sembra questa sembra una barzelletta è meglio che merite a me i soldi li pago io il mutuo scusami perché a questo punto la banca non è che ti stralcia il credito che banta nei tuoi confronti fai una sospensione o allunghi il mutuo ma se tu dai i soldi alle banche poi io comunque glieli devo dare quindi glieli diamo in due la differenza la differenza è che se la banca non li riceve da me ma li riceve dallo Stato i soldi del mutuo che io devo pagare per esempio la rata semestrale di giugno io ho da pagare 5000 euro di rata semestrale giugno se non ho entrate come faccio a pagarla allora lo Stato la paga alla banca che a me mi dice va bene la pagherai fra 4-5 mesi dopo 4-5 mesi io dovrò pagare la rata magari scusate gioco di parole a rate e lo Stato che fa recupera questi soldi quindi perché si è indebitato per fare questa operazione quindi in realtà apparentemente è un gioco a somma zero ma c'è un problema che io ho sempre sollevato faccio un esempio se un'azienda deve pagare dei prestiti dei debiti pregressi e non lo può fare perché il suo fatturato non è cresciuto perché c'è questa crisi da coronavirus se tu mi paghi questi mutui mi eviti ovviamente di collassare completamente di affogare però io sempre in crisi sto perché mi è mancato il fatturato mi è mancato il cash flow quindi in realtà non è che queste cose servono per uscire dalla crisi servono per consentirci più o meno di galleggiare ma questo non è sufficiente in realtà sarebbe stato molto meglio se una somma corrispondente a quello che ha detto il presidente Conte oggi pomeriggio fosse stata destinata ad investimenti perché allora quello avrebbe potuto ricostituire i margini delle imprese perché faccio ospedali perché faccio scuole perché faccio investimenti faccio impianti sportivi che ne so infrastrutture quello che assunzioni quello che serve questo ovviamente avrebbe aiutato le imprese dandogli mercato domanda invece che semplicemente compensare quelle spese che loro oggi non sarebbero in grado di coprire perché non hanno più fatturato in sostanza non mi hai risposto sti 500 euro per te al di là della sospensione dei muti sono sufficienti? no non sono sufficienti perfetto è quello che penso anch'io considera che da 5 o 6 giorni a questa parte ho deciso di creare un gruppo gratuito di incontro per gli imprenditori che si chiama proprio Partite IVE si chiama Imprenditori Unite per Partite IVA ed Imprenditori dove all'interno ti inviterò anche lì per fare una nuova intervista dove potremo dare informazioni giuste, informazioni agli imprenditori e alle partite IVA perché oggi mi sto rendendo conto ancora una volta dopo 22 anni che sto nel mercato che la classe degli imprenditori e delle partite IVA proprio non sono assolutamente duterati di fatto sta che oggi è uscito un decreto anche se sono 4 spiccioli per le partite IVA e va bene ma per gli imprenditori stiamo parlando di tanti aiuti al di là della sospensione dei muti o finanziamenti ma non c'è nulla quando addirittura ci sono un imprenditore mediamente ha qualche dipendente ha delle strutture, ha delle spese che vanno avanti e soprattutto ha un insieme, ha un sistema tra virgolette creato ad hoc per autoalimentarsi con l'avviamento, con la clientela che si è bloccato e non è detto che quando tu riapri i cancelli pronti via tu riapri gli alberghi non sappiamo quando si riprenderanno con il terrorismo che è stato creato riguardo questo virus quindi io ho paura per me, per la mia categoria e per tutti e quindi ho detto riuniamoci perché se c'è da fare qualcosa, se c'è da andare a sbattere i pugni sul tavolo oggi siamo considera in 5-6 giorni siamo già 6.000 e stiamo crescendo velocemente infatti per quelli che sono collegati apparirà se i ragazzi mettono il link si entra gratuitamente, condividi questa diretta anche per far entrare altre partite IVA e altri imprenditori perché solo uniti si può fare qualcosa con persone come Nino Galloni e come tanti altri professionisti che si alterneranno in interviste in questo gruppo proprio per dare valore, ci saranno direttore marketing, direttore vendite, consulenti per il lavoro ed altro proprio perché oggi siamo la classe meno tutelata d'Italia ma siamo quelli che realmente teniamo l'Italia sulle spalle perché siamo noi che creiamo posti di lavoro, siamo noi che produciamo parecchio pil insomma siamo noi che rischiamo il nostro sedere, il sedere delle nostre famiglie e di tutti quelli che ci portiamo appresso e quindi direi che dovremmo essere quelli sostenuti per primi perché siamo noi che paghiamo gli stipendi quindi gli ammortizzatori siamo noi anche quando le cose vanno male perché anche se c'è poco incasso uno oggi allora chi sta a zero come diceva, chi è già in crisi come diceva benissimo Nino che succede? Che oggi deve riuscire a rimanere in vita e non si sa se rimarrà in vita quelli invece che hanno creato un po' di portafoglio, che hanno creato un po' di volume e anche del denaro da parte, oggi se lo stanno mangiando e non si sa quanto andranno a erodere quel patrimonio per poi ripartire alla grande quindi io ti ringrazio Nino per essere qui e invito tutte le persone a riflettere su questo proprio sul fatto che se oggi sei una partita IVA, se oggi sei un imprenditore non puoi più rimanere a guardare, non puoi più stare lì ad aspettare che qualcuno allunghi la mano e ti aiuti oggi devi unirti ad altre persone per combattere e difendere i tuoi diritti perché se tu vedi per la CIS, la UIL, la CGL, per i lavoratori ci sono tanti modi di tutelarsi e tante soluzioni per tutela oggi per gli imprenditori non c'è una vera azione da parte di un gruppo unito che fa qualcosa per difenderli scusa la digressione Nino ma è una roba che ci tengo tanto a dire condivido pienamente quello che hai detto ok vado avanti per una cosa tu ho sentito, io mi sono preso degli appunti per alcuni interventi che hai fatto e vorrei chiederti qualcosa del quantitative easing perché io non so chi è collegato, se può conoscere o meno queste cose riguardo l'euro, l'eurozona, le banche quindi vorrei chiederti se ci puoi spiegare un po' che cosa significa, che cos'è allora quando si fece l'euro e quindi la BCE siccome la stessa BCE aveva solo compiti di carattere monetario e riguardanti il tasso di inflazione si pensava che la stessa BCE non potesse intervenire direttamente sui mercati soprattutto non sulla emissione di titoli del debito pubblico dei vari paesi perché se no saremmo tornati per esempio in Italia a prima del 1981 quando la banca d'Italia comprava i titoli che lo Stato non riusciva a vendere perché teneva i tassi bassi per non far crescere il debito pubblico quindi poi c'è stato il divorzio fra Tesoro e Banca d'Italia e la Banca d'Italia non ha comprato più dopo il 1981 i titoli che lo Stato non riusciva a vendere quindi lo Stato ha perso il controllo sul tasso di interesse e il debito pubblico è cresciuto enormemente perché l'hanno deciso i mercati, cioè le banche e poi siamo arrivati all'euro quindi si pensava che la banca centrale europea non potesse intervenire sui mercati finanziari quando c'è stata la crisi dopo il 2008 invece Mario Draghi vedendo che si stavano allargando gli spread cioè il fatto che tantissimi possessori di titoli del debito pubblico dei vari paesi non avendo più fiducia negli Stati prendiamo la Grecia, l'Italia, il Portogallo eccetera li volevano buttare sul mercato e i nostri titoli erano stati depreciati del 70% questo portava le emissioni dei nuovi titoli a far crescere enormemente i tassi di interesse e questo avrebbe creato un'eccessiva discrepanza un'eccessiva differenza fra i titoli dei primi della classe cioè i tedeschi e in parte i francesi e quelli degli ultimi della classe cioè noi, i greci, i pigs, i portoghesi, i spagnoli eccetera allora Draghi elaborò la teoria collegata con la sua famosa dichiarazione che per difendere l'euro avrebbe fatto whatever it takes qualunque cosa fosse stata richiesta e quindi cominciò a comprare sul mercato secondario quindi quando qualcuno voleva svendere in anticipo il titolo che aveva comprato per sfiducia nei confronti del debitore li compriva lui quindi questo si chiama quantitative easing ci sono due tipi di quantitative easing quello europeo appunto è sul mercato secondario cioè i titoli esistono già sono alcuni anni che sono in mano dei creditori che guadagnano le cedole e poi avranno la restituzione del capitale principale ma questi ultimi non si fidano più dei debitori e allora se ne vogliono disfare la banca centrale europea interviene per comprare questi titoli e quindi risolve il problema e mantiene diciamo così bassi gli spread le differenze fra i migliori e i peggiori insomma lo spread è quello un'altra quantitative easing come ha fatto invece la Fed è quello di comprare direttamente i titoli dello Stato quando ci sono difficoltà per tenere bassi gli interessi e per aiutare lo Stato compra i titoli e lo fa con varie tecniche comunque quando si dice quantitative easing oggi si intende soprattutto quello che fa la banca centrale europea ok allora visto che stiamo parlando di euro quindi di Europa oggi c'è stato l'Eurogruppo a Bruxelles mi vuoi dire qualcosa riguardo questa approvazione del MES che tu sai io ho raccolto quasi 15.000 firme sto ripartendo per raccogliere altre firme per bloccare questa approvazione del MES il meccanismo europeo di stabilità allora il MES nacque sulla ignoranza del fatto che la banca centrale europea potesse intervenire sul mercato dei titoli del debito pubblico come fondo salva stati all'origine si chiamava fondo salva stati in realtà le due premesse del fondo salva stati erano erronee una l'abbiamo dimostrata è l'intervento della BCE sul mercato secondario perché è avvenuta l'altra è sul mercato primario che è proprio negata assolutamente eccetera e invece c'è un caso in cui la BCE può comprare direttamente i titoli del debito pubblico infatti si chiamano Outright Monetary Transactions che tradotto in italiano significa interventi monetari fuori legge fuori legge nel senso che la legge sarebbe quella che la BCE non può ma può perché poi noi crediamo che quello che per noi cittadini non puoi parcheggiare lì la macchina è vietato eccetera però poi arriva la BCE la parcheggia non so se mi spiego perfettamente ok allora praticamente entrambe queste affermazioni sono false la prima abbiamo vista è quella del mercato secondario la seconda si è realizzata ai tempi della Grecia però ha una conseguenza l'Outright Monetary Transaction cioè che poi il paese che ne beneficia se così si può dire viene commissariato cioè il suo governo sarà BCE Commissione Europea e Fondo Monetario Internazionale questa è la mia paura nel senso per me la mia paura più grande al di là della fine che ha fatto la Grecia o quello che sia proprio che se noi firmiamo questo mess a parte che poi spiegherai meglio tu perché se tu l'esperto in questione firmare cioè dare 125 miliardi perché a quanto pare il contributo d'Italia dovrebbe essere una garanzia di 125 miliardi poi spiegherai meglio tu ma il rischio dimmi se può essere reale quello di di perdere così tanto credibilità o appunto valore tanto da essere commissariati questa è la mia più grande paura sì allora il commissariamento è una conseguenza diretta delle outright monetary transactions che non c'entrano niente col MES cioè l'ipotesi più grave un paese delle dimensioni dell'Italia non potrebbe mai in caso di situazioni che gli operatori non non compriano i suoi titoli avere un beneficio dal MES perché è troppo grosso il MES potrebbe aiutare un paese piccolo quindi in realtà l'evoluzione del MES è stata da sopperire ai paesi diciamo più piccoli in caso di crisi nelle vendite dei loro titoli sul mercato primario con un capitale tutto sommato modesto poi si è evoluto ad aiutare anche le banche che si trovassero in situazioni in situazioni similari non è un istituto che può servire a un paese come l'Italia se dovesse trovarsi in quella difficoltà ma perché l'Italia dovrebbe trovarsi in quella difficoltà che è uno dei paesi più soliti del mondo perché esporta tanto e sostituisce importazione adesso non sappiamo come usciremo da questa crisi del coronavirus che certamente ci preoccupa tutti preoccupa gli imprenditori e preoccuperà le esportazioni le importazioni vedremo però prima del coronavirus noi eravamo uno dei paesi più solidi del mondo perché dobbiamo quindi rischiare questa situazione per una ragione molto semplice che noi siamo sotto lo schiaffo delle agenzie di rating le quali ci possono affibbiare un rating talmente basso da far sì che le banche che sono i compratori dei nostri titoli non li acquistino più e allora a quel punto deve entrare la BCE con le Outright Monetary Transactions quindi il MES non sarebbe mai in grado di aiutare un'eventualità che l'Italia non ce la facesse il costo di partecipare al MES come hai ricordato tu è elevato perché adesso si parla di centinaia di miliardi di euro come fossero bruscolini poi vedremo ma fino a poche ore fa parlare di 25 miliardi significava parlare di una manovra finanziaria quindi il MES ci costava 5 manovre finanziarie e quindi non si capisce perché questa cosa dovesse essere fatta poi c'è una situazione complicata delle banche tedesche di cui poi se c'è tempo diremo se no c'è la Deutsche che è in estrema crisi voglio dire ma le banche allora qui c'è una questione se c'è tempo perché non so quali sono i tempi di questa trasmissione più o meno noi abbiamo una quarantina di minuti 50 al massimo un'ora diciamo che se l'importante è chiarire un po' una volta per tutte la situazione allora questa è una cosa importante perché riguarda la nomina della Lagarde alla BCE al posto di un tedesco come era nei programmi un anno e passa fa un anno e mezzo fa e c'entrano le banche tedesche però adesso è una cosa un po' po' lunga che il grande pubblico purtroppo non conosce ma che poi è stata come dire conclamata con quelle dichiarazioni che lei ha fatto ecco magari qualcuno non lo sa ma ripeti tu la dichiarazione che ha fatto io posso dire solo la conseguenza in un giorno abbiamo perso il 17% in borsa quindi siamo stati abbiamo bruciato miliardi delle nostre aziende tutto qua quindi diciamo che la BCE dovrebbe garantire tra virgolette la sua eurozona e la stabilità dei paesi e dei prezzi lei si è mostrata reticente nel dire noi non dobbiamo come se noi non dobbiamo badare al problema coronavirus tanto più italiano giusto più o meno la sintesi è questa lei ha detto il contrario di quello che è la sua missione per come dire tranquillizzare quelli che temevano che lei volesse fare troppo e quindi ha detto no no non lo farò e così ha fatto casino sui mercati però poi giorno dopo si è recuperata la situazione e il giorno dopo il venerdì le borse in particolare quella di Milano hanno recuperato il 17% no il giorno dopo hanno fatto se non erro l'8% e ti dico una cosa c'è qualcuno che sta mal pensando ovviamente queste sono ipotesi perché io non le ho verificate sta mal pensando che certe situazioni tipo perdere 17 punti in un giorno la borsa rimasta aperta che magari si poteva limitare il danno con il blocco dell'Italia tenendola chiusa comunque ok successo quello che è successo bisognerebbe vedere come c'è stato quel rimbalzo cioè se il giorno dopo abbiamo fatto un segno positivo importante chi è che ha ricomprato quei titoli noi italiani o magari qualche francese o qualche tedesco perché lì si potrebbe anche pensare che qualcuno ha fatto lo sciagallo non c'è assolutamente da escluderlo però è inutile che ci stracciamo le vesti quando succedono queste cose a proposito delle borse mio maestro Federico Caffè diceva che sarebbe meglio chiuderle le borse infatti era da chiudere io guarda non sto non faccio il tuo lavoro non sto nell'economia né tantomeno nella politica internazionale ma quando si blocca un paese voglio dire proteggo il mio paese al massimo che senso ha a fare degli scambi quando è come andare a fare a botte con qualcuno con le mani legate cioè mi sembra proprio una cosa stupida però non voglio stare a giudicare non voglio fare polemiche non è questo il caso voglio capire un po' che cosa comunque è successo quindi mi hai detto nella risposta che mi hai dato rischiamo rischiamo se veniamo come dicevo io penalizzati tanto da perdere la fiducia degli investitori rischiamo di essere commissariati e in più il MES non è un meccanismo che a noi ci aiuta e allora mi chiedo una cosa ma perché dobbiamo firmare un impegno del genere se noi che siamo già in difficoltà oggi neanche ne potremmo far uso o se ne facciamo uso sarebbe più dannoso che utile qual è la motivazione per cui spingono chi deve svolgere quelle operazioni sui titoli è la BCE non c'è dubbio l'Italia non deve andare in outright moneta di transactions perché è un paese forte però dovrebbe proteggersi con un'agenzia di rating fare un'agenzia di rating che ci costava zero era secondo me un dovere che io ho cercato di come dire sottoporre all'attenzione di vari presidenti del consiglio ministri eccetera ai quali poi nei decenni passati mi hanno detto sì sì hai ragione ma però non si è fatto nulla invece è quello il problema perché basta fare una normativa per cui le banche italiane o che operano sul territorio italiano possono ottenere nel loro bilancio i titoli purché il rating sia abbastanza elevato da parte dell'agenzia AB o C non da parte di agenzie che tra l'altro assegnano un rating così a capriccio o sulla base di motivazioni politiche e geopolitiche meglio identificate esatto comunque sai qualcosa della riunione di oggi che cosa è successo se siamo riusciti a non trattare questo punto a posticiparlo c'era stata una grossa apertura perché non era più il primo punto all'ordine del giorno ma era in barri eventuali ma era in barri eventuali dopodiché è chiaro che i nostri ministri propendono per l'idea che visto che siamo in emergenza bisogna approvarlo in emergenza e questo è un grosso errore perché tra l'altro se dobbiamo fare delle manovre per centinaia di miliardi per salvare l'economia italiana non si vede perché poi li dobbiamo mettere lì quando diventa un'arma come dire secondaria dal punto di vista di quello che è la potenza di fuoco della BCE che è maggiore perché crea moneta cioè questo istituto il BES avrebbe dei fondi che sono conferiti dagli stati quindi tu togli il sangue ai cittadini per mandare lì questi miliardi quando la BCE può premendo un un bottone sul bottone del computer creare questa moneta questo è il punto non so infatti se ti facessi sta domanda proprio diretta Nino ma perché dovremmo proprio aderire io innanzitutto non ho oggi tanta stima dell'Europa e di quello che stiamo vivendo noi in Europa ma al di là di questo perché è un discorso magari che affronteremo le prossime volte però ti dico perché oggi dovremmo proprio pensare solo di firmare il MES al di là del coronavirus a che cosa qual è il vantaggio che beneficio ne avremo Benefici nessuno malefici notevoli tra l'altro va sottolineato che è anche una struttura non solo anticostituzionale ma diciamo così antigiuridica perché prevede una situazione che è fuori dalla nostra cultura come l'abbiamo espressa almeno da Montesquieu in poi vale a dire noi possiamo con una scelta politica depenalizzare un reato ma non possiamo dichiarare che fuori sopra la legge una categoria di persone che sarebbero i funzionari dirigenti e i direttori di questo di questo istituto perché già la corte costituzionale tedesca ha sollevato questo problema e la Germania non ha firmato il MES perché lo dobbiamo firmare noi sono pienamente d'accordo quindi MES no e per me lo dico a tutti quelli che sono collegati ripartirà di nuovo non so se stasera siamo pronti perché abbiamo fatto una nuova abbiamo già fatto il nostro con le prime quasi 15.000 firme ripartiamo oggi perché per noi non c'è lo spostamento noi io personalmente voglio l'annullamento l'Italia non si deve interessare a questo MES non si deve impegnare e non deve dare soldi per nessun altro se non per questi cittadini italiani come me come tutti quelli che ci seguono per rialzarci da questa guerra da questa catastrofe ti dico una cosa in merito se ti corrego secondo me non è che noi dobbiamo dire no non lo vogliamo firmare noi dobbiamo dire che siccome c'è l'emergenza se è vero che c'è l'emergenza una cosa del genere va rinviata va rinviata quando sarà finita l'emergenza poi riapriamo il ragionamento io userei questa tecnica tattica insomma più che dire no non lo firmiamo ma io sai perché allora la prima raccolta firme l'abbiamo fatta per farlo slittare ok però Nino oggi con la conferma tua e con tutto quello che abbiamo in questa settimana mi sono documentato ancora di più non ci sono me l'hai confermato anche tu stasera non ci sono vantaggi noi dobbiamo ritirare su questo paese che prima del virus già aveva difficoltà e il sistema sanitario per esempio è stato diciamo l'esempio di ciò che non funzionava nessuno se n'è accorto che ogni anno stavamo chiudendo padiglioni stavamo non investendo in macchinari o quello che serviva per la sanità e oggi stiamo pagando le spese e non solo ci siamo resi conto qualche anno fa quanto ci è costato e ci costa il non investire nelle infrastrutture tra cui ponti strade o altro e se inizio così finisco alle 4 di mattina quindi io direi che oggi non c'è più da spostare altrimenti facciamo una grande fatica per spostare ci fanno contenti e ci dicono ok non è più al primo punto lo mettiamo a vari eventuali dire che lo mandi lo rinvia data da destinarsi per quello che è il funzionamento delle burocrazioni europee significa che è una cosa che probabilmente non si farà più ma se siamo in una democrazia io questo Nino ormai mi è partito l'embolo ma con l'Europa non siamo in una democrazia noi cerchiamo di essere in una democrazia all'interno del nostro paese tutti quanti ci rifacciamo alla Costituzione per fortuna c'è stato un referendum che ci ha rafforzato però tieni conto caro mio che purtroppo a livello europeo tenderebbero a far prendere le decisioni ai tecnici invece che ai politici mi sta bene vuoi sapere la mia risposta a questo che è una tua saggia affermazione perfetto motivo in più allora per non stare in Europa semplice perché se tu mi costringi a fare delle azioni che nuociono alla nazione allora io non voglio stare in Europa l'Europa deve essere un plus come diceva Prodi quando entreremo io mi ricordo una frase io mi ricordo una frase quando entreremo useremo l'euro staremo in Europa lavoreremo un giorno in meno e guadagneremo come se avessimo lavorato un giorno in più qui è meno è meno della metà della metà della metà della metà del risultato infatti siamo entrati in Europa con una svalutazione dei nostri salari dei nostri stipendi del 50% perfetto quindi io direi che per me l'Europa già mi sta qui il MES mi sembra proprio il pretesto per uscire ok vado avanti perché se no ci blocchiamo su questo discorso proprio oggi ho visto alcuni numeri a parte ho fatto un'indagine su Coldiretti e ho sentito la testimonianza di chi qui in Italia esporta prodotti proprio dall'agricoltura che sia il grano o quello che sia col fatto che hanno chiuso le frontiere due terzi del trasporto su gomma per esempio attraverso l'Austria non può passare quindi noi non possiamo esportare secondo te queste robe qui questo e tante altre problematiche riguardo l'esportazione quanto e come impatteranno sull'economia italiana per quest'anno beh bisogna distinguere ciò che serve all'estero tipo nostri semi lavorati prodotti meccanici eccetera vedrai che in qualche modo passerà infatti lì in Austria c'è stato il blocco però i camion che devono andare in Germania passano per quanto riguarda i prodotti dell'agricoltura lì bisogna fare attenzione perché noi abbiamo sostituito più di 40 miliardi di importazioni di prodotti agricoli e ci stiamo producendo al nostro interno tutto quello che ci necessita cioè quella famosa autonomia indipendenza sovranità alimentare in qualche modo la stiamo realizzando questo non significa che non dobbiamo e non possiamo esportare perché noi abbiamo bisogno di esportare prodotti di eccellenza ma è importante che esportiamo quello che è in più cioè dobbiamo prima dobbiamo cambiare il paradigma dobbiamo prima saturare il nostro mercato interno per esempio col formaggio col vino col grano col parmigiano l'olio eccetera eccetera e poi esportiamo il resto sei d'accordo con me che bisogna invitare le persone a fare modo di comprare cibi guardando l'etichetta dove il prodotto è italiano sei d'accordo Leo guarda io credo che la gente lo stia già facendo da tempo e in questa situazione lo fa ancora di più io credo che i prodotti esteri di importazione soprattutto nell'ambito della filiera alimentare abbiano i giorni contati perfetto hashtag io compro italiano bene sono contento Nino allora mi puoi fare visto che sei un economista e sei stra preparato su tutto anche su tutto ciò che concerne soprattutto l'Europa mi puoi fare un paio di scenari possibili non sapremo quando ripartiremo qui quando si riapriranno i cancelli però più o meno mi puoi fare uno scenario migliore e uno scenario peggiore di questa situazione allora uno scenario migliore dipende dalla consapevolezza che questo virus è mutante e quindi che praticamente noi ci dobbiamo convivere come per il passato anche per il futuro quindi adottare tutte quelle misure che ci consentono di fare una vita normale compatibilmente con la diffusione di questo virus che l'anno prossimo fra qualche mese addirittura si parla di settembre ottobre muterà e sarà tutta un'altra cosa e quindi se noi continuiamo in questo modo e pensiamo di produrre agosto e poi dopo a settembre ricomincia questa storia chiaramente questo è un problema quindi avevo detto qual era lo scenario migliore lo scenario migliore è avere consapevolezza di questa circostanza e organizzarci per riprendere le attività produttive quindi a livello economico se ti dovessi dire lo scenario migliore del PIL italiano quest'anno aspetta prima di arrivare a dei numeri vediamo perché facciamo queste previsioni allora l'Italia ha una grande capacità produttiva se l'Italia produce di più per se stessa come dicevamo prima chiaramente avrà la possibilità in questa situazione di osservare una riduzione del PIL sotto l'8% questo è lo scenario migliore sotto l'8% quindi vuol dire che andiamo a meno 8? vuol dire che andiamo a meno 8 e quello sarebbe uno scenario ancora sopportabile se invece cominciamo per tutta una serie di ragioni riprendiamo le attività produttive poi immediatamente le interrompiamo perché è arrivato il virus 20 coronavirus non 19 ma 20 eccetera eccetera quindi c'è il blocco a ottobre a novembre chiaramente andiamo verso il 15 18% e lì non ce la facciamo e il non farcela che cosa significa? è difficile prevedere perché noi viviamo in una società in cui l'effimero il superfluo ci mettono in equilibrio economico finanziario tante cose che noi compriamo mangiamo consumiamo eccetera sono superflue e potremmo farne a meno possiamo ridurre i nostri consumi di energia elettrica forse però non possiamo stare al buio o senza energia elettrica non so se mi spiego quindi questa è una valutazione è veramente una situazione chiamiamola cinematograficamente da day after che veramente preferisco non pensare Leo ok quindi quale sono secondo te i consigli che puoi dare se tu potessi muovere un po' le leve del controllo che cosa faresti? prima di tutto farei un piano di investimenti pubblici 350 miliardi di cui ha parlato Conte vanno bene ma Conte ci deve dire per fare cosa perché prima decidi che investimenti effettuare nell'ambiente nell'agricoltura nella cura delle persone eccetera perché di questo stiamo parlando e allora il paese secondo me galleggia alla grande perché ha le risorse per realizzare queste cose diversamente se non si sa cosa fare sì arrivano gli aiuti dalla Cina qualche respiratore qualche postoletto qualche palestra che viene attrezzata a ospedale ma questi sono scenari di emergenza che possono reggere per qualche settimana non può essere ciò che il paese è in prospettiva dello sviluppo di tutte le emergenze di cui stiamo di cui stiamo parlando poi non ci dimentichiamo che ci sono anche degli scenari geopolitici gravi in Medio Oriente e in Mediterraneo i rapporti Cina USA il rapporto fra Russia e Europa l'Africa gli immigrati cioè noi abbiamo sottovalutato che Erdogan a un certo punto all'inizio della crisi diciamo sanitaria ci ha scatenato in prima ondata 130 mila persone ai confini della Grecia e poi ce ne sono altri quasi 4 milioni pronti a partire eventualmente cioè cavolo questi sono scenari che se non troviamo una soluzione praticabile che non è solo quello di chiudere le frontiere o di accettare la gente non può essere gestita allora perfetto per chiudere questa puntata con un discorso economico che è quello che ci interessa fare con te per dare il fondo a questo tunnel la luce alle persone e tu sai che io so che sopra le nuvole c'è sempre il sole ed è il mio motto allora ti chiedo sono un sognatore ma se facessimo una moneta complementare senza uscire dall'euro oggi ma se noi a livello nazionale ci muovessimo con una moneta complementare come la vedi? allora non la definirei complementare perché la moneta complementare è una moneta fiduciaria locale che gira a livello comunale in piccoli circuiti la chiamerei moneta parallela una moneta emessa dallo Stato non a debito non è impedita dal Trattato di Lisbona perché parliamo di Stato note non di banconote e non a circolazione in tutta l'Unione come è scritto nell'articolo 128,1 del Trattato di Lisbona ma solo nel territorio nazionale questo darebbe un grandissimo aiuto non aumenterebbe il debito pubblico darebbe ai cittadini ai giovani alle imprese alle partite IVA al piccolo artigianato eccetera eccetera la possibilità di vivere e di vivere bene perché con questa moneta si potrebbe andare a fare la spesa approvvigionarsi di materie prime e di quello che serve e poi eventualmente pagarci le tasse bene sono contento perché questo in qualche maniera sarà il prossimo nostro obiettivo sono veramente contento Nino di averti qui sarai ospite nel gruppo Imprenditori Uniti proprio per dare ancora valore sei una persona che stimo molto e sono felice di averti incontrato perché l'Italia ha bisogno di persone come te persone lucide e persone che sono libere cioè che fanno il bene di questa nazione che non hanno interessi diversi grazie ancora e ci vediamo grazie a te ciao ci vediamo nel gruppo ciao Nino saluto ciao ciao saluto anche voi a casa grazie di essere qui vi do una notizia che vi può interessare perché abbiamo fatto una maratona di sette giorni siamo stati insieme sette giorni alle 11 di sera sono grato a chi c'è stato chi c'è stato sa che mi sono impegnato comunque a dare valore e a portare verità perché oggi l'obiettivo è quello in questo momento di tirar fuori quello che è stato sommerso fino ad oggi ovvero la verità e qualcuno mi dice Leonardo ma tu non sei un politico ma tu non sei un giornalista ma che cosa ti sei messo a fare prima eri un imprenditore e poi due anni fa ti sei messo a fare il formatore e ti hanno detto che non eri un formatore infatti poi ho insegnato come si fanno aziende come si fa business come si fa crescere un business rispetto ad altri che hanno studiato ma magari non hanno mai aperto aziende oggi non sono un politico però sto facendo più politica io di chi dovrebbe fare politica e non sono un giornalista e sto portando più notizie vere io di quanto lo facciano i giornalisti che sembra di essere poi qui in un regime o meglio vado a prendermi notizie dall'istituto del superiore della sanità parlo con personaggi come Nino Galloni che sono vatti a vedere su Google chi è Nino Galloni è quello che ha fatto perché faccio tutto questo perché io ambisco star bene ambisco a far star bene la mia famiglia e tutte le persone in questo paese abbiamo una nazione strepitosa come ha confermato Nino abbiamo mille possibilità di vincere con tutti e non avremo neanche bisogno di questa Europa non avremo neanche bisogno più di tanto di importare se non barattando commerci nostri quindi l'obiettivo oggi mio è quello di Tarti più valore possibile visto che questa settimana ci sono state tante persone contente di essere state con me di aver appreso un'altra parte un altro angolo di verità ho deciso di fare altri sette giorni perché siamo tutti costretti a stare a casa siamo tutti costretti a rallentare e questo è il momento migliore per puntare alle stelle cioè per ridisegnare il nostro progetto di vita il nostro progetto imprenditoriale e lavorativo perché magari durante la vita quando sei assorto dal lavoro dalle mille cose non riesci a farlo oggi la vita involontariamente perché non l'abbiamo deciso noi ci ha affermato e dobbiamo prendere questi stop e sfruttarli al meglio ogni medaglia ha sempre due facce ha una brutta faccia e ha anche il dritto e noi dobbiamo prendere il buono quindi altri sette giorni insieme ma variando un qualcosa ci vedremo un po' prima perché alcune persone mi hanno scritto Leonardo alle 11 poi sono stanco la mattina alcuni lavorano ancora riescono a mantenere il loro lavoro e sono contento e quindi ci vedremo alle nove e mezza faremo una maratona più breve quindi le puntate non saranno da un'ora ma saranno una mezz'oretta e ti darò valore con altre testimonianze domani abbiamo una persona importante e quindi che si occupa proprio è in prima linea contro il coronavirus quindi ti porterò delle informazioni se ti può interessare proprio vere al di là di quello che raccontano i media di quello che raccontano persone con queste catene che girano su whatsapp e su facebook e quindi domani sera il primo appuntamento per questi altri sette giorni insieme quindi sarà la prima di sette sarà alle nove e mezza sempre qui su il canale ufficiale questa è la pagina ufficiale di Leonardo Leone e ti chiedo di invitare più persone possibile tra l'altro se non l'hai fatto ti do un consiglio perché alcuni mi scrivono Leonardo ma mi sfuggono le dirette e non mi arriva la notifica in alto dove c'è il like alla pagina se tu piggi like a fianco hai tre ti appaiono tre bottoncini tre puntini cliccando su quelli c'è un segui sul segui puoi impostare per primi quando fai questo succederà che se vado in onda quindi online con una diretta ti arriverà nella home la notifica Leonardo Leone è online e questo ti ricorderà avrai una sorta di possibilità in più per raggiungerci in diretta e per poter far delle domande perché poi nelle dirette se non riesco a vedere i commenti poi li leggo i commenti e rispondo alle domande ok è molto importante ancora una volta ti ricordo di entrare se sei solo ovviamente solo se sei una partita IVA e se sei un imprenditore all'interno del gruppo imprenditori uniti siamo già a 6.000 in meno di una settimana puntiamo a diventare grandi perché se sei grande riesci ad andare a parlare con i grandi e a far valere i tuoi diritti come abbiamo visto questa sera che altre persone purtroppo non guardano non riguardano per la classe nostra soprattutto grazie di essere stato qui ci vediamo domani sera alle 9.30 nella prossima puntata dove parleremo con uno scienziato con uno specialista che lavora in prima linea contro il coronavirus grazie grazie a tutti 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 grazie a tutti